E mentre i numeri si stabilizzano e indicano che la curva dei decessi e dei contagi da Covid-19 ha imboccato la discesa tanto attesa, in Europa come in Italia si comincia a pianificare il ritorno alla normalità, che tutti immaginano scaglionata per settori età, anche perché se l'R con 0, indice che indica la velocità del contagio, è prossimo a 1, una persona contagia una persona contro le 3-4 delle settimane scorse, il virus è ancora presente e l'unico modo per tenerlo a bada è il vaccino. Dobbricare milioni e milioni di dosi vaccinali da distribuire a tutto il mondo ci vuole tanto tempo e quindi idealmente possiamo dire che ci vorranno 18 mesi per realizzare un vaccino. Invece in Francia è stata superata la soglia dei 10.000 morti per Covid-19 e come ha precisato il direttore del Dipartimento Sanitario Statale, il picco non è stato ancora raggiunto e la fine del confinamento non è ancora un'opzione sul tavolo della discussione. Nella Repubblica c'è che il Parlamento ha votato il prolungamento delle misure restrittive fino al 30 aprile. In altri paesi la fine del tunnel sembra più vicina, sia la Danimarca che la Norvegia annunciano un certo alleggerimento. In Norvegia si pensa possibile riaprire le scuole già il 20 aprile e a seguire gli altri i servizi tra cui parrucchieri ed estetisti, scuole elementari materne riaperte invece in Danimarca già dopo Pasqua. E anche la Grecia immagina che si possa entrare in fase 2 a maggio a patto che le misure restrittive vengano rispettate fino allora. È certo invece che la fase 2 sarà durissima per alcune compagnie aeree come Lufthansa che ha già annunciato che la crisi costringe a restare a terra la sua compagnia low cost German Wings.